I miei quadri sono astratti con riferimenti paesaggistici o onirici. Il mio intento è quello di creare delle atmosfere che possano dare un rimando sonoro, inteso come corrispondenza emotiva, facendo immergere lo spettatore in un altro mondo. Mi piace creare delle immagini nelle quali chi guarda possa compiere un viaggio e vedere che cosa emerge. Il titolo è come il cartello dell'autostrada, è la chiave di lettura che indica la via da percorrere.